A 45 anni, è sposato con una collega giornalista e ha una figlia di 12 anni. Fa il giornalista dal 1992. Tra le altre cose è stato direttore dell'Unione Sarda, Radiolina e Radioplanargia, oltre che conduttore di una trasmissione di prima serata su Videolina. Ha scritto i saggi Francesco Cossiga dalla A alla Z, Benedetto XVI dalla A alla Z. Il volto di Francesco, La visione di Francesco, Andreotti e la Sardegna, oltre che i romanzi Peppino Pess, L'inedita confessione del prete bandito, Il sangue della festa morto in Dienodita e La casa dei sardi. Per la televisione nel 2017 ha curato i docufilm La terra toglie, la terra dà, trasmesso da Rai TV e la serie Paesi Tudine sui piccoli comuni sardi interessati dal fenomeno dello scopolamento. L'ospite di questa puntata è Anthony Muroni. Buona visione! È arrivata l'app di Alghero Channel, la web social tv. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it Prima linea è offerto da Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti. Cos'è Sardos? Sardos è un'associazione che ha intenzione di smuovere un po' la situazione nell'ambito culturale, sociale ed economico della Sardegna. È un'associazione che si è costituita da un gruppo di amici e che ha intercettato tutta una serie di interessi e di attenzioni da parte di vari settori della società sarda e questo naturalmente ha dato a questa associazione anche una certa responsabilità in questa fase. Ma è essenzialmente davvero un luogo fisico nel quale far emergere esperienze, far emergere visioni, far emergere idee e cercare di dare un contributo a chi ritiene che l'attuale proposta nel dibattito pubblico sardo non sia sufficiente per dare risposte, risposte moderne, risposte attuali a quelli che sono i problemi in questo momento della Sardegna. C'era bisogno proprio di Sardos? Mi spiego meglio. Cosa avete di diverso rispetto agli altri soggetti sardisti? Boh, se è nata vuol dire che c'era bisogno. Se continuerà a vivere vuol dire che continuerà a essercene bisogno. La positività o il principio attraverso il quale Sardos è nata è quello di non essere per forza eterna. Una volta raggiunti i suoi obiettivi può anche non esistere più, ma nel frattempo deve continuare a fare quello che si è proposta di fare. Perché era necessario far nascere questa nuova associazione e soprattutto dare una casa ai tanti che ritenevano di essere senza casa? Perché noi, come ho detto all'inizio, riteniamo che in questo momento nel dibattito pubblico sardo manchino discorsi alternativi rispetto a quelli che vanno per la maggiore, a quelli che fin qui hanno occupato tutte le istituzioni politiche, ma di riflesso, dopo aver occupato le istituzioni politiche, hanno occupato diversi gangli della società. Parlo in una città, quella di Alghero, nella quale penso solo all'aeroporto, la fine che ha fatto l'aeroporto di Fertiglia e lì l'incidenza e il ruolo della politica credo che sia sotto gli occhi di tutti. Sardegna al centro dell'Italia o Sardegna nazione autonoma? La Sardegna ha una sua specificità. Sardegna è una nazione senza Stato. Sardegna è un'isola al centro del Mediterraneo che ha una sua peculiarità e che per ragioni politiche, geopolitiche, negli ultimi 160 anni e 157 anni è stata incardinata nello Stato italiano. Oggi, da 70 anni a questa parte, è nella Repubblica italiana. Ma non è stato sempre così. Sardegna c'è sempre stata, è sempre stata Sardegna, ma non è stata sempre italiana. Dunque, il problema nostro in questo momento non è essere italiani o meno. Geopoliticamente lo siamo. Per l'incidenza che ha avuto la cultura italiana, soprattutto nel dopoguerra, dalla caduta del fascismo in poi, siamo sempre di più italiani. Ma siamo stati prima di italiani piemontesi, prima di piemontesi spagnoli e prima di tante altre cose. Il problema vero di oggi nel dare risposte al futuro della Sardegna, sapere quale sarà il ruolo della Sardegna nel panorama mediterraneo nei prossimi 50 anni, è capire dove ci sta portando la situazione attuale. Se è vero che oggi siamo 1.600.000 abitanti e se è vero che con questo trend di decrescita, per quel che riguarda il saldo naturale fra nati e morti, ma anche per quel che riguarda l'altissimo numero di persone che vanno via dalla Sardegna perché non riescono a trovare qua un progetto di vita che sia soddisfacente o che possa andare incontro ai loro desideri, ai loro sogni, alle loro speranze, se è vero che comunque fra 50 anni la popolazione sarda calerà di un terzo, scendendo un milione di abitanti, noi dobbiamo interrogarci su quello che rischia di diventare un non luogo, cioè una cultura intera che rischia di essere sradicata nell'ottica di globalizzazione assoluta e dunque magari fra 50 anni essere sardi o essere svedesi non sarà più così diverso perché magari ci sarà una lingua unica che non sarà l'italiano e tutti mangeranno la stessa cosa, tutti leggeranno gli stessi libri, tutti saranno conformati verso un unico indirizzo. Io credo che questo debba essere evitato perché la diversità e ricchezza perché una cultura come quella sarda e soprattutto una specificità socio-economica come quella sarda ha la possibilità di dire la sua nel panorama europeo e nel panorama del Mediterraneo. Crede nella zona franca integrale, quella che riserva le franchigie e fiscali a tutti i residenti in Sardegna o ritiene siano migliori o più adatte le zone franche speciali tipo quelle teorizzate dal PD? Diciamo che il problema per come è stato posto in Sardegna negli ultimi 10-15 anni non può essere affrontato in maniera seria. A mio avviso lo si affronta seriamente se si capisce che la zona franca è uno degli strumenti di governo dell'economia in Sardegna e in Italia, finché la Sardegna è, se è vero come è vero, che la Sardegna è incardinata all'interno della Repubblica Italiana. La zona franca nasce, le zone franche nascono come strumento, come grimaldello di utilizzo della leva fiscale per portare degli strumenti di compensazione in alcune aree particolarmente svantaggiate oppure per creare uno strumento di sviluppo in aree che hanno una certa caratteristica socio-economica. La Sardegna, essendo un'isola che al centro del Mediterraneo è sempre stata una piattaforma di scambio, di commercio, dove è possibile trasformare anche prodotti che vengono realizzati in altre parti. Questa dovrebbe essere la vocazione di chi ha un hub importante al centro del Mediterraneo. Ora è chiaro che uno strumento come la zona franca per le attività produttive può essere veramente la leva vincente. Ci sono già gli strumenti di legge, c'era stata una legge regionale che doveva entrare, diciamo così, avrebbe dovuto recepire quelle che erano le indicazioni che erano arrivate all'epoca della giunta Palomba da una legge della Repubblica. Si trattava solo di perimetrare le zone che avrebbero potuto usufruire di questo speciale regime fiscale. Non è stato mai fatto dalla politica sarda, evidentemente per i soliti problemi legati a interessi che stanno fuori dalla Sardegna. Oggi, se noi pensiamo che la zona franca sia uno strumento che ci serve solo a pagare di meno la benzina, siamo fuori strada. La zona franca deve essere uno strumento di sviluppo. Non vogliamo parlare di elezioni, facciamo finta che ci siano già state. Vince Sardos. Qual è il primo atto politico che lei vorrebbe che il Presidente regionale firmasse e perché? Guardate, io credo che la Sardegna abbia necessità di una assoluta discontinuità con le politiche degli ultimi vent'anni, abbia bisogno di atti di rottura. Io vorrei tanto che il prossimo Presidente della Regione, come primi atti da adottare, varasse, aprisse dei tavoli, due tavoli almeno. Uno per un immediato confronto col governo, per la risoluzione di tutte le vertenze che sono solo nominalmente aperte, dalle entrate alle servite militari, a tutte le altre cose, continuità territoriale, questione degli accantonamenti, tutte vicende nelle quali non c'è una vera vertenza e nella quale c'è un gioco delle parti con la Sardegna che fa finta di protestare e il governo che fa finta di ascoltarci ma che fa per i fatti suoi. Questa è la prima cosa. Il secondo atto invece propositivo, vorrei che il Presidente della Regione aprisse un tavolo immediato di riforma da presentare entro i primi cento giorni di governo e da attuare entro il primo anno di legislatura per un federalismo interno, cioè per una devoluzione di poteri, funzioni, fondi e personale agli ambiti locali. Io credo che vada applicato pienamente lo Statuto Sardo, che è a rango costituzionale, nella parte in cui lo Statuto dice che la Regione Sardegna è governata dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e dai Comuni. I Comuni oggi sono completamente esautorati dall'effettiva funzione di governo della Regione. Quanto dell'uomo, Anthony, c'è nel personaggio pubblico Muroni e quanto il suo dovere essere personaggio pubblico, ha cambiato l'uomo? Questa è una domanda difficile, complimenti, perché insomma non è facile, facendo questo mestiere non sempre vengo messo in difficoltà. Questa è una domanda alla quale per me non è facile rispondere, ma nella quale cerco di essere il più onesto e il più trasparente possibile. Io credo che i personaggi pubblici debbano il più possibile essere quello che sono davvero, cioè il meno tattici possibile, e devono soprattutto essere quel che dicono di essere. E soprattutto però bisogna, se sei personaggio pubblico, accettare quelle che sono le regole del gioco, cioè la notorietà, il fatto che tante persone guardino a te in senso positivo, ma anche il fatto che tante persone guardano a te invece con negatività, perché ti sentono un pericolo, perché ti sentono diverso da loro, o perché ritengono che la tua azione o il tuo essere in campo possa danneggiarli in quelli che sono diritti o situazioni che ritengono ormai acquisite per sempre. A proposito di persone che magari, parliamo degli haters, lei usa i social network. Quanto pensa che servano e quanto pensa che danneggino una persona o un'idea? Io credo che i social network vadano naturalmente usati con grano salis, cioè possono essere uno strumento pericolosissimo, possono distruggere, una persona si può autodistruggere se non capisce quali sono i pericoli dei social network e se li usa in maniera compulsiva o senza avere un qualche paracadute o un qualche freno inibitorio da solo. Io sono nove anni che uso in maniera professionale i social network e devo dire che ho imparato anch'io, usandoli e sbagliando, in diverse fasi a gestire questo rapporto col grande pubblico, con la grande platea di persone che fin qui ha voluto parlare con me su quei mezzi. Anche lì io credo che occorra, come ho detto nella risposta precedente, farsi vedere i più veri possibile, non pensare di essere irraggiungibili e dunque se è possibile rispondere a tutti e avere con tutti un rapporto alla pari, perché comunque ci sono tante cose da imparare, tante cose che ascoltando e confrontandosi con gli altri si possono imparare. Con gli haters, gli odiatori professionali o i troll, quelli che vengono solo per provocarti, anche lì ho imparato alla lunga che ha ragione quel motto inglese che dice don't feed the troll. Lei è nata in Australia, ma assolutamente sardo. Per risolvere i problemi della Sardegna, meglio avere il cuore sardo e viverla o arrivare da fuori e usare solamente il cervello e gli occhi? Anche questa è una risposta complessa, c'è una domanda bella, una risposta complessa, nel senso che io sì sono nato in Australia ma da genitori sardi e per me è stato più facile sentirmi sardo sin dalla nascita, anche quando ancora non abitavo qua. Io credo che, non tutti sono d'accordo con me quando dico questa cosa, ma io credo che sardo è chi si sente sardo. Ci sono tanti sardi che non sono nati in questa terra e che oggi la sentono propria e che sono sardi col cuore, come lei diceva, e loro sono assolutamente i nostri fratelli. Io credo che per fare gli interessi della Sardegna e per cercare di dare tutto se stessi nella parte pubblica della nostra vita, perché poi c'è anche una legittima parte privata in cui cerchiamo di dare tutto per noi stessi e per la nostra famiglia e per i nostri amici, ma c'è anche un impegno pubblico nel quale cerchiamo di restituire qualcosa alla società che tanto ci ha dato. Ecco, per fare bene bisogna essere davvero innamorati della Sardegna, perché essendo una terra così difficile, una terra che ha tante peculiarità bellissime, ma anche tante problematicità che sono fisiologiche, anche per la sua condizione di isola o per i vari sedimenti che ci sono stati nel corso dei secoli, di caratteri, di esperienze, di personalità, ci sono tante difficoltà. A volte dunque c'è il rischio di farsi, di prendere delusioni o di chiedersi ma chi me lo fa fare. Però credo che se c'è un grande amore come per una persona, per una donna, per un uomo, quando si ama un'altra persona non si infarna i conti, chi me lo fa fare o chi non me lo fa fare. Lo devi fare per forza perché la ami e così ugualmente credo che per la Sardegna. Ha parlato di fare cose. Qual è la cosa più grande che lei ha fatto nella sua vita? Certamente aver costruito una famiglia bellissima, avere una moglie e una figlia che mi rendono l'uomo più felice del mondo. E quale invece la stupidata più grande che hai fatto, che magari in partenza le sembrava una grande idea e poi non si è rivelato quello che doveva essere? Eh sì, magari aver trascurato per tanti anni la famiglia per essermi dedicato 24 ore su 24 al mio lavoro, alla carriera, all'ambizione di scalare tutte le posizioni che era possibile scalare nella mia carriera e questo naturalmente ha portato a delle rinunce, tante rinunce nell'ambito personale e familiare. Per questo probabilmente con l'esperienza di oggi, so che sembra facile dirlo, ma con l'esperienza di oggi mettendo sulla bilancia le cose belle che sono arrivate dall'aver raggiunto tutti gli obiettivi professionali che mi ero previsto e le cose alle quali ho dovuto rinunciare, credo che sia meglio adesso dove riesco ad avere un equilibrio maggiore. Da bambino cosa sognavo di fare? Sognavo di fare esattamente quello che ho fatto, cioè di fare il giornalista e di costruirmi una famiglia. Sognavo di poter vivere per sempre a Tres Nuraghes. Secondo me è il centro del mondo, è il paese più bello del mondo, nel mio quartiere che è il quartiere più bello del mondo, come credo che per tutti, per ognuno di noi che ha un forte legame con la sua comunità. Quest'ultima cosa non l'ho potuta realizzare fin qui, ci torno molto spesso, ma non ho perso le speranze. Può darsi che fra qualche anno quando sarò più libero possa anche coronare anche quest'altro sogno. E' felice di ciò che ha e di ciò che è? Sembrerebbe facile dirlo, se me l'avessero chiesto dieci anni fa o cinque anni fa e avrei comunque risposto che ero felice di avere quello che avevo. Però è la storia dell'uomo, quando hai qualcosa, quando hai raggiunto qualcosa ne vuoi sempre un'altra, non ti basta mai quello che hai. Dunque io cinque anni fa avrei voluto essere il giornalista più importante della Sardegna, o quello che aveva più potere in Sardegna, come si usa la parola potere oggi o quello che poteva affrontare tutte le più grandi sfide nel settore giornalistico in Sardegna, l'ho ottenuto. Però oggi sono felice di quello che sono, cioè di avere molto più tempo per scegliere io quale lavoro fare, per scegliere io quanto tempo passare con la mia famiglia, per scegliere io quanto tempo passare per dedicare tempo agli eventi pubblici, alle cose pubbliche. Io sono uno che è molto fortunato, io veramente in questi primi 45 anni della mia vita ho avuto veramente tutte le fortune e continuo a essere fortunato anche oggi. Spero di non sfidare troppo la fortuna e di poterlo continuare a essere per almeno altri 45 anni. A proposito di cinque anni fa, c'è qualcosa che sa fare oggi che non sapeva fare cinque anni fa? Ah certamente, ci sono molte cose che so fare oggi che non sapevo fare ieri. Io credo di avere qualche pregio, spero di avere qualche pregio, ma sono conscio dei miei difetti. Una cosa nella quale devo migliorare certamente è quella di saper valutare le persone. Io sono uno che tende a dare veramente tanta fiducia a pelle, ci sono delle persone che mi ispirano fiducia a pelle. Come capita a molti uomini e a molte donne, spesso questa fiducia è mal riposta e dunque si prendono grandi delusioni. Però ogni volta che mi capita di prendere una grande delusione, mi dico, ma e se poi invece ne fosse valsa la pena? E dunque continuo a cercare di dare fiducia, cercando anche lì naturalmente di avere sempre qualche paracaduta. Chiudiamo con un augurio e una speranza per noi sardi. La speranza per noi sardi è quella di riuscire finalmente a prendere in mano la nostra vita. Io credo che il crucio che ho più grande è di essere capitato in un momento storico nel quale soprattutto negli ultimi 25-30 anni la Sardegna non ha fatto niente per avere in mano la sua vita e non ha l'opinione pubblica sarda e la società sarda hanno via via, si sono via via ritirate in un cantuccio delegando ad altri di prendere le decisioni per il futuro della Sardegna. E sempre, purtroppo incontriamo sempre più gente che diceva, vabbè, vediamo cosa dicono e poi noi valutiamo. No, io dico sempre, no, di tu cosa vuoi, cosa vuoi essere. Io credo che sia importante inculcare o cercare di invitare le persone a prendere in mano la propria vita, a essere protagonista dal proprio condominio, al proprio vicinato, al proprio quartiere, alla propria città, al proprio ambito, alla propria regione, alla propria nazione, perché come ho detto prima per me la Sardegna è una nazione senza Stato, ognuno di noi può essere una parte importante del mosaico e solo chi decide di far decidere agli altri, appunto, si autoesclude. Grazie. Grazie a voi.